Allora lascio a voi, ho discusso con l'altro gruppo, non con questo, non con quello che è tipicamente in quest'aula, cos'è un motore, lascio a voi quelli che non sono di quel gruppo ma che erano in quest'aula e non ho discusso anche del motore, guardare cos'è un motore. Cos'è un motore? Un motore è un circuito percorso da corrente che è messo in un campo magnetico, quindi con i portatori che girano sentirà una forza, come abbiamo discusso, un'aspira percorso da corrente dentro un campo magnetico cercherà il suo momento di dipolo magnetico, cercherà di raddrizzarsi, però come fate a convertire quel fenomeno lì, che c'è un momento torcente, capace di far ruotare le cose, in un motore, pensateci, non è banale perché dovete fare qualcosa, perché certo l'aspira percorso da corrente cercherà di orientarsi ma non fa un moto, lui casomai fa così, non è praticamente utile a far lavoro questo, certo che se state azionando una sega che va avanti e indietro e taglia, d'accordo, però se volete far girare una macchina o delle ruote in maniera sistematica avete bisogno che compia un giro, una cosa che fa così non fa un giro, quindi avete la ruota che avanza indietreggia, avanza indietreggia, se volete che vada sempre di là avete bisogno di convertire questo moto in un moto continuo, pensateci, questo è un generatore che è quasi diverso, quindi il motore prende corrente elettrica, quindi se volete energia elettrica e la converte in energia meccanica, questo è il contrario, prende energia meccanica e la converte in energia elettrica, quindi avete una spira che è solo un pezzo di rame, non è una spira in cui c'è già una corrente, se mettete una spira senza corrente in un campo magnetico, il rame di per sé è una spira di rame per esempio, se c'è una spira di ferro, mettete un campo magnetico ovviamente si attaccherà a una delle espansioni polari, prendete una spira di rame, il rame di per sé non è ferromagnetico, come abbiamo visto, il pezzo di rame non è attratto dai magneti, e prendete quella spira e la girate, la attaccate a un albero di trasmissione e qua c'è una manovella, girate una manovella, quindi siete voi a ruotare, siete voi con la vostra mano a ruotare la spira, se siete stanchi di farlo prendete un animale oppure uno schiavo o un mulinello, corrente d'acqua, ecco la corrente d'acqua che scende perché piove, c'è pioggia, montagna, neve, ghiacciai, c'è la corrente che scende giù, c'è un fiume e una intercetta il fiume con dei secchi, quindi ci sarà un momento torcente rispetto a questo punto, questo oggetto lo ruoterà e questo oggetto è collegato con l'albero di trasmissione alla spira e quindi girerà la spira in un campo magnetico, quindi avete un campo magnetico, se avete uno spira la fate girare voi, cosa succede? Allora, per esempio, supponete che la spira è inizialmente orientata in questo modo, la spira, pensatela come una curva chiusa, è un circuito, questo è di legno, non è parte del circuito, è propriamente questo, questo serve solo a comunicare il moto rotatorio della manovella a questo signore qui, un pezzo di rame è rettangolo, e voi girate questo pezzo di rame in un campo magnetico, creato da queste calamite permanenti, un campo permanente, allora, qual è il flusso del campo magnetico attraverso la spira, il flusso di nuovo, dovete sempre partire, cos'è un flusso, cos'è un flusso, a queste domande dovete, se siete pronti, a rispondere, non partire in quinta perché potrete roppermi, cos'è un flusso, è un integrale di superficie, è un protoscalare, il campo per un vettore che presenta l'aria, quindi dovete prima pensare a una superficie e orientarla, pensate a quella tesa come la membrana di un tamburo, le membrane di un tamburo, d'accordo, ma come è orientata, verso l'alto e verso il basso, è una libera scelta, tanto a maggior ragione questo esercizio continua a cambiare, a me è venuto così, tanto perché prima l'ho fatto con un flusso che inizialmente era negativo, adesso faccio inizialmente positivo, perché ho deciso di orientare la superficie così, che è la curva matematica che rappresenta la spira, lo sto facendo girare così, quindi sto orientando gli elementi di area verso il basso, quindi inizialmente, se questo è il polo nord e il polo sud, le linee di campo magnetico stanno verso il basso, quindi inizialmente, visto che l'elemento di area, nella stessa direzione, il flusso è positivo, ok? Poi a furia di girare, dovete immaginare che la spira inizialmente è così, questo sto guardando di lato, cioè questo è un disegno un po' prospettico, disegnatelo così, prima è così, con l'elemento di area messa così, poi la spira vuota, vuoterà, per esempio, se io sto girando, perché non ho specificato, immaginate che giri in questo verso, quindi sta andando così, quindi l'aspira adesso si sarà, oddio, le mie capacità di disegnare saranno messe duramente alla pola qua, quindi l'ho ruotato, quindi adesso l'eventore che rappresenta le dimensioni di area è così, la spira, inizialmente è così, poi lo ruoto, meglio con questa mano qua, lo giro io, d'accordo? Quindi dovete chiedervi qual è il flusso, quando in questa configurazione, siccome il campo magnetico sta facendo così, inizialmente l'angolo è zero, adesso l'angolo è questo qua, state misurando così, quindi, no? Il flusso è, cos'è il flusso? Il flusso è un prodotto scalare, siccome in questo esercizio il campo magnetico uniforme, perché ho scelto delle espansioni polari e una zona di un campo magnetico uniforme, che so, uguale a B0, che so, U di X, dove U di X verso il basso, uno poi arricchisce il disegno con tante belle trovate, allora, cos'è il flusso? Questo è il principio IB per il vettore area della spira, questo è un flusso, il campo magnetico uniforme, e quindi questo il flusso è uguale al modulo di IB per il modulo di A per il coseno dell'angolo, quale angolo? Dovete pensare all'angolo, quindi se il campo magnetico è costante ma la spira sta girando dovete immaginare che il flusso sta facendo così, ci sarà un istante in cui il flusso è zero, perché? Perché il campo magnetico è così, la spira è messa in questa posizione, con il vettore A per di qua, mentre il B è per di qua, quindi in quell'orientazione la spira non sta esponendo il fianco al campo, il campo magnetico non penetra la membrana della superficie perché la superficie è messa di taglio, d'accordo? Poi quando la spira fa un ulteriore giro, e magari si trova in questa posizione, il vettore della spira adesso verso l'alto, ed ecco che vedete che l'angolo tra la freccia blu e la freccia salmone è maggiore di pi greco mezzi, quindi il coseno è negativo, d'accordo? E' semplice questo, ma dovete, di nuovo un esercizio semplice, ma è oro questo perché genera un sacco di domande di fisica e di matematica, quindi il flusso inizialmente è positivo, man mano gira il flusso sta diminuendo, c'è un istante in cui il flusso è zero perché la freccia salmone è di là, a 90 gradi, poi gira troppo, troppo nel senso che la freccia ha un angolo maggiore di pi greco mezzi, il coseno è negativo. Quando è completamente ribaltato la spira, è forse più semplice fare il disegno così, la spira è girata, ma attenzione, la spira ha la sua freccia, qual'è la freccia? è la sua freccia, quindi è così, inizialmente la spira era rivolta verso il basso, poi lui gira e c'è un momento in cui la spira, la sua freccia è in direzione opposta a B, e quindi ho il valore massimo del flusso, il valore assoluto del flusso è massimo ma ha un segno algebrico negativo, semplice no? Cosa che in teoria queste le avete viste a scuola, c'è sempre qualcuno però che non le ha viste perché ha fatto qualche percorso scolastico strano. Ieri è venuta da me una vostra collega che ha un paio di anni più di voi, che veniva da un corso di studi di tipo pedagogico, matematica 0, ma le piaceva l'ingegneria e indovinate che voto le ho dato? La lode, la lode, e quindi io l'ho incoraggiata, ha saputo ribaltare completamente questo enorme divario culturale che aveva quando si era iscritta a ingegneria, aveva 0 fisica, 0 chimica, 0 matematica, che ragazzo insegnano così che devono insegnare ad altri? Così simile no? Sei ignorante in tutto ma hai il diploma di insegnante, cioè teoria della pedagogia ma cos'è che insegni? Ah è fritta secondo me, questo va cancellato perché magari i pedagoghi là fuori, si c'è pedagoghi? E la cosa interessante che è venuta da me circa un paio di settimana fa a chiedermi come si faceva un integrale strano? Cioè io, una delle cose che ho chiesto a voi di fare ieri, era di calcolare, usando la legge di Ossavar, il campo elettrico creato da un filo elettilineo Non usare la legge di Ampere, ragionamenti di simmetria che abbiamo fatto assieme, ma di fare esplicitamente il calcolo E lei è venuta da me, professore sto cercando di farlo e mi sto un po' perdendo L'abbiamo fatto assieme, anzi quel giorno che era venuta la prima volta ci sbagliavamo con un segno, veniva fuori un segno sbagliato Era tardi perché ero esaurito dalle lezioni, vediamoci domani, lei quella sera a casa, nell'appartamento, ho capito l'origine dell'errore del segno e la mattina dopo siamo incrociati e lei sta a prendere la stessa cosa, professore, e siamo detti abbiamo trovato l'errore Quindi lei era venuta da me, abbiamo interagito e poi gli ho detto ma perché si è messo in mente di farlo da solo? Perché non avevo detto a loro 2 anni fa che dovevano farlo per l'esame Ah perché mi piacciono gli integrali, questa fu la sua risposta Che lei aveva capito da sola che si poteva fare e si era cimentata, ok? Quindi io le ho dato la lode non solo per questo ma perché aveva un atteggiamento che era quello corretto E' stata proprio brava, no? Perché ho detto questo? Perché alcuni di voi queste cose non le hanno proprio mai viste Quindi dovete capire come mai il flusso del campo magnetico ha questo andazzo Poi la guardate e dite in quale intervallo di tempo ho la derivata del flusso In questo intervallo di tempo la derivata del flusso è negativo Vedete che il flusso ha una pendenza sempre negativa Qua il flusso è positivo Quindi la legge di Faraday Lenz vi dirà che in questo intervallo di tempo La corrente circolerà in questa spira in un verso e qua circolerà in un verso opposto E quali sono gli istanti in cui la corrente che circola è massima? La corrente indotta massima è quando la derivata è massima in valore assoluto E quindi in questo istante qui Paolossalmente in questi istanti dove il flusso vale zero Questo è il grafico del flusso In questo istante qua il flusso vale zero Eppure la corrente indotta è la massima Perché? Perché nella corrente indotta è la derivata quello che conta E' qua che la derivata è massima Quindi se voi qua sotto fate un grafico della corrente La corrente in ultima analisi La corrente in valore assoluto E' essenzialmente data dalla derivata del flusso rispetto al tempo in valore assoluto Anzi lasciamo perdere il valore assoluto Se io vi dico che la corrente è E La corrente indotta Perché stiamo dicendo che la forza elettromotrice E' come al solito la circuitazione di E D'accordo? E questo è uguale a meno la derivata del flusso rispetto al tempo E' che questo è una forza elettromotrice Quindi per la specie di legge di ion generalizzata Io so che questa roba qua è uguale a Questa è una specie di V I R Cioè se questo pezzo di rame ha una sua resistenza Se ha una certa sua resistenza C'è una certa corrente che circola no? E quindi fare il disegno della corrente Come vedete la corrente In ultima analisi è la derivata del flusso cambiata di segno Quindi voi fate il grafico Della derivata del flusso Cambiate di segno Quindi fate il grafico qua sotto Di meno la derivata Prima è il caso di fare il grafico della derivata Poi la ribaltiamo Perché sennò diventiamo mati A quest'ora del giorno e del corso Stiamo già sfiorando la follia Quindi questo è il flusso Questo è il derivato del flusso Questo è un coseno Quindi la derivata del flusso rispetto al segno Cos'è? E meno omega A Fin zero Seno Invece di coseno Ok? Quella è la derivata del flusso Teorema della derivazione delle funzioni composte E chiudiamo il cerchio no? La derivata Questa è la cosa che abbiamo fatto la prima settimana del corso Questa è la derivata del flusso E' un meno seno Esce fuori questo Di nuovo Omega cos'è? Non l'ho detto Ma è scritto sulla lavagna Omega E due pi greco Per la frequenza E la frequenza sono i cinque al secondo I giri al secondo Che faccio fare alla manovella Cioè quella spira sta girando Un certo numero di volte al secondo D'accordo? Avrò alta frequenza Oppure bassa frequenza A seconda di come io decido di razionare la manovella Quindi la derivata è un meno seno Quindi è una cosa che è così D'accordo? Quindi la corrente La corrente è proporzionale Alla derivata del flusso cambiato di segno Quindi il grafico della corrente E questa qua Cambio gli assi Questa diventa la corrente E la corrente diventa così Ups Ho mancato il bersaglio Così Questo è il grafico della corrente La faccio magari in rosso Ok? E vedete che la corrente è massima Quando il flusso è zero La corrente ha il valore in assoluto più grande Quando il flusso è zero Qua la corrente è positiva Perché qua la derivata del flusso è negativo Qua la corrente è negativa Perché qua la derivata del flusso è positivo Quando avete la corrente Il flusso massimo non c'è corrente Quindi ricordatevi La legge fa dei lens Guarda il flusso D'accordo? Quindi corrente positiva e negativa Cosa vuol dire? Dipenderà da come abbiamo orientato questa curva Quindi girerà in un senso o nell'altro A seconda di cosa io intendo per direzione positiva Siamo d'accordo? Quindi questa è una corrente alternata Non è una corrente continua È una corrente alternata Voglio aumentare la frequenza O diminuire il periodo della corrente Cosa devo fare? Devo girare la manuella più velocemente Più lentamente vado Più i cicli impiegano tempo a essere completati Quindi è questa corrente alternata Guardate la differenza tra un generatore E' un motore Certo però c'è una cosa interessante Che se voi prendete un motore Cos'è un motore? E' un'aspira percorsa da corrente Messa in un campo magnetico Quindi ci sarà un momento torcente Ma nel fatto che lui si ribalta C'è una variazione di flusso E quindi a legge di Faraday Mi rema contro Cioè un motore e anche un generatore Non sono cose inscindibili Un motore dove c'è già una corrente che gira E quindi state prendendo la corrente E state convertendo in moto meccanico Se vi fermate a pensare L'aspira gira e girando Ricadete in questa casa qua E la gira e l'aspira girando Genera elettricità Marena contro Pensateci Quindi Pensateci Sta guardando il soffitto Perché? Stai pensando In effetti quando uno fa così sta pensando Cos'è il motore? No No Questa no Cos'è? Così? No Poi dall'altra parte Comunque l'espressione della persona che pensa è così no? Quello vi sa che sembra che Questo non somiglio niente Non so disegnare il motore D'accordo? Bezzata differenza Ovviamente E' evidente che Questo mulinello che viene dal Roscello Dal fiume Funziona se c'è neve in montagna No? Se i fiumi sono pieni di acqua Se c'è una siccità Se non nevica più in montagna Se non ci sono ghiacciai Il fiume si prosciuga Quindi questo non funziona più Allora uno cosa può fare? Può prendere Sto dicendo puttanate Però vanno Secondo me Ogni studente di ingegneria Dovrebbe essere consapevole di questo Forse quando si è alle medie superiori Queste cose ve le dicono Ma non rimangono Perché siete troppo distratti Da Non so Da sciocchezzuole Tipiche della vostra età E lasciatemelo te Non voglio dire niente In assenza di un fiume Se c'era la montagna L'uomo ha scoperto Che poteva forse Far circolare Un mulinello Se con del fuoco Scaldava dell'acqua E creava del vapore E questo vapore Magari spingeva dell'acqua Come il vapore che va In un bacino pieno di acqua Chiuso E l'acqua viene sospinta fuori Sotto pressione Oppure il gas Il vapore stesso Potrebbe far circolare Il mulinello Oppure la legna Beh appunto il fuoco Come si fa con la legna Ma la legna è quello Ecologicamente Più appropriato No? E' un bene riciclabile Nel senso che L'albero che voi tagliate E la bruciate L'albero aveva preso Il carbonio No? L'albero carbonica Per creare La sua stessa legna Quando voi la bruciate Rimettete il CO2 Nell'atmosfera Quindi non è che state Aggiungendo Ma era già stato tolto Quindi è a pari Il guaio del carbone E del petrolio E' che questo Era il CO2 Tolto dall'atmosfera Milioni di anni fa E quindi Voi la liberate adesso E quindi Tutto l'altro C'è un CO2 Si che era stato preso D'atmosfera Milioni di anni fa Ma era stato liberato Adesso Quindi il CO2 Va su In maniera Non naturale Quindi la linea Si dice che E' una fonte rinnovabile Il carbone E il petrolio No Anche se E su epoche geologiche E' la stessa cosa Quel carbonio Era nell'atmosfera E' stato tolto E la stiamo liberando Ma stiamo parlando Della durata Molto breve Della esistenza umana E qual'è la soluzione Più fica? Nucleare Però viviamo In un paese di isterici E Nucleare Non si può fare Avete conto Quanti isterici siamo? Addirittura Così in isterici Che Negli ospedali Viene tolta La parola nucleare Da reparti Dove fanno diagnostica Con strumenti nucleari Perché non potrebbero spaventare La gente La risonanza magnetica Ha il suo nome E la risonanza magnetica Nucleare Ma hanno tolto La parola nucleare Per non spaventare la gente Questo è un paese ammalato Se non riesci a ragionare Quello che è successo in Giappone Ha dimostrato Che si può costruire Una centrale nucleare A prova di terremoto Qual'è stato l'errore? Di aver fatto un muro Contro lo tsunami Troppo basso E di non aver protetto Quella parte della centrale Che era a benzina Che doveva Una volta che Il centrale veniva spento Per motivi di sicurezza Serviva comunque Un minimo di corrente Per far funzionare Tutti i metodi Di raffreddamento E quel motore Lì Che dava benzina Era stato rovinato Dall'acqua Quindi Se voi andate a vedere Come è successo Fukushima Fukushima Come si dice E' veramente paradossale Quante persone Sono morte Per lo tsunami? 25.000 persone E quanti per il nucleare Si riuscirà a dire Che moriranno? Forse Sarà molto difficile Voi che state Facendo probabilità Come si fa A convincere Come faranno A convincervi Che ci saranno Dei morti Nel futuro Per effetto Della radioattività Liberata Da quelle esplosioni Secondarie Del reattore nucleare Vedranno un eccesso C'è un numero Di persone Che muoiono Naturalmente Di cancro E vedranno Un piccolo eccesso Che deve essere Statisticamente Significativa Per poter dire La causa è quella Quindi 25.000 morti Per un tsunami E la gente E' diventata misterica No, no, nucleare Via, basta, basta, basta Comunque Per me La strada è questa Poi Ingegneri Che sono persone Intelligenti Possono costruire Centrale nucleare A prova di terremoto A prova di terroristi Perchè questo Casomai è il guaio più grosso Non i terremoti O i tsunami Ma che ci sia Qualche gruppo Malintenzionato Che si possesse Il materiale fissile E crea Non tanto la bomba Ma inquina Se qualcuno vi versa Un cucchiaio di plutonio Nella quadruttoria Roma Ma ci sarebbero Milioni di morti Non tanto per la radioattività Ironicamente Ma il plutonio è una delle sostanze Più velenose Che ci sia No Comunque Ultima cosa No ma sarebbe bello Se si organizzassero Delle piccole Piccoli sondaggi In questa facoltà Quando siete matricola Al fine del primo anno Secondo anno Terzo anno Fare dei sondaggi Però i sondaggi Vanno pensati In modo giusto Io non sono lo statistico No Statistico è quello Che analizza i dati Ma il sondaggista Una volta che hai i dati Deve saperli Ovviamente interpretare Ma il sondaggista È l'arte di fare le domande E fare le domande Per vedere come la pensate Anonimamente Si intende Su certe tematiche Sull'OGM Sul cambiamento climatico Sull'ecologia in senso lato Sui cibi organici Sul nucleare E' molto interessante Vedere come il vostro Parere cambia negli anni Se cambia Per esempio nel nucleare Chiaramente uno dei problemi Che c'è La scorta È il deposito delle scorie No? Quello è un problema Ma non è un problema Inesorvibile Come si fa a trovare la risposta? Investendo soldi E fare ricerca Nucleare Se uno dice No, no nucleare Nucleare no E non puoi neanche fare ricerca Sul nucleare Perché la gente è isterica Allora nessuno risolverà mai Il problema Della scorta Del deposito delle scorie Ma non è neanche depositarlo Si può usare la trasmutazione nucleare Per prendere una scoria adottiva Che magari a milioni di anni O un cdm Migliaia di anni Di vita media Ridurlo a 30 anni Quindi non è più un problema Per chissà quando È vivo Tra 2000 anni Ma si può risolvere Ma non si può Non si può fare nemmeno ricerca Oddio Siamo un paese libero Uno può fare ricerca Ma il problema è Che bisogna avere i soldi No? Se io voglio fare questa ricerca Devo avere i soldi Per pagare un dottorando Per mandarlo in missione Magari andare a conferenze O per fare un po' di esperimenti Magari in laboratori In altri paesi Perché l'Italia Per carità non si può È vietato Quindi uno non può neanche fare ricerca Sul nucleare Perché sono tutti isterici Non è illegale Semplicemente non ti finanziano Tutti isterici I comuni denuclearizzati Ce ne sono qua? Che puttanata è? Cosa vuol dire? La Francia quanti centrali nucleari ha? Cosa vuol dire? Che in Italia hai un comune denuclearizzato? Cosa vuol dire? Che non hai una bomba nucleare? Che non hai un reattore nucleare? Cosa vuol dire? Che ora sono? Andiamo veramente alla frutta? Si, c'è un commento che vorrei dire Perché viene discusso in molti libri E magari lo faremo all'orale Però Sono cose che si riesce a ragionare al momento Quindi All'orale vorrei che voi foste capaci di ragionare Quindi se c'è un argomento Per esempio Non ho fatto l'attrito in questo corso Ma perché? Perché avevo talmente tante cose da fare Che discutere l'attrito È un po' uno spreco di tempo Perché l'attrito è in realtà È un fenomeno estremamente complicato Ma quelle poche cose che si possono dire In un corso introduttivo di fisica Sono proprio due sciocchezze Quindi Guardatele Guardatele da soli E se ha un orale o uno scritto C'è un esercizio dell'attrito Vi dirò nel testo dello scritto O all'orale Cosa dovete sapere per risolvere l'esercizio Ok? Quindi sono certi argomenti Che sono là fuori Io non pretendo che lo sappiate Oddio L'attrito pretendo che lo sappiate Perché voi avete un libro E state leggendo C'è l'attrito Tutti i libri fisiche e introduttivi Discutono l'attrito Ma quello che non vi ho detto Vi dirò all'orale L'attrito è questo E questo e questo e questo Ok Davvero questo risolto di questa esercizio Dovete essere in grado di ragionare Ok? Allora Questo esempio qui Che avevamo discusso Di un polo nord e un polo sud E magari Era montato su... Dovete immaginare Non voglio stare qua a fare un disegno complicato Dovete immaginare che sia possibile Diciamo il succo Questo è una spira Vi ricordate questo? L'abbiamo discusso a lungo L'aspira messa in faccia alla calamita C'erano varie casistiche no? Dove il magnete si avvicinava Col polo nord O si indietreggiava col polo nord vicino Oppure che questo fosse stato girato Col polo sud qui Che si avvicinava Oppure col polo sud sempre qua Ma che si allontanava Ma c'è anche la versione dove Questo è fermo Ed è la spira muoversi No? Quindi questa è la spira Montata su delle ruote D'accordo? Ed è ovvio Perché vige la teoria della relatività Che il risultato deve essere lo stesso No? Voi potete analizzare questo problema Allo stesso modo Come la variazione di flusso Per esempio Se la spira si sta muovendo Il modo che abbiamo discusso E' di usare la legge di Faraday La legge di Faraday Abbiamo già detto tre volte stamattina Che la FEM Cioè la forza etnotrice Che sarà capace di far circolare Una corrente in questo conduttore Quindi questa è una spira conduttrice E' uguale a meno la derivata Rispetto al tempo del flusso Del campo magnetico E' evidente che se questo è fermo E questo si sta avvicinando Allora è evidente che le dire di campo magnetico Qua saranno Questo oggetto entra E vede un aumento di flusso E uno analizza con la legge di Faraday Come abbiamo sempre fatto D'accordo? La stessa idea Ma c'è un modo Quando il conduttore è in movimento Quando il conduttore è in movimento C'è un modo diverso Per arrivare allo stesso risultato E il modo è di essenzialmente Pensare alla forza dell'Oleps Che in fondo l'abbiamo usato questo trucco Quando pensavamo Ogni volta che c'è un portatore di carica In moto in un campo magnetico Sentirà una forza Quindi pensate qua C'è un portatore di carica qua Eccolo qua Libero Quello è un pezzo di rame Quindi circa un elettrone Per ogni atomo di rame E libero di muoversi in quel pezzo di rame Però pensate alla corrente convenzionale Non all'elettrone C'è un portatore di carica positivo Che è libero di muoversi Basta che vedo un campo elettrico Che lui comincia a muoversi D'accordo? Allora Guardate un attimo Qua c'è un campo magnetico Forse il disegno non è dei più felici Ma immaginate che c'è un campo magnetico Sta passando di qua Ok? C'è un campo Da lato Questo è l'aspira Qua c'è il portatore di carica E c'è un campo magnetico Che so che è così Va bene? Che è così Quindi qua c'è un campo magnetico In questo punto Che è in questa direzione Perché l'ho messo qua Dovete immaginare cosa sta succedendo Ok? C'è un campo magnetico La spira in questa versione dell'esercizio Si sta spostando Quindi questo portatore di carica In realtà si sta spostando C'è uno spostamento in questa direzione Perché? Perché la spira fa parte del carrello Quindi quel portatore di carica È trascinata dal movimento del carrello E quindi questo è il campo magnetico Questa è la velocità della spira Quel portatore di carica sentirà Una forza di Loretz Sente una forza di Loretz E qual è la direzione della forza? Se la velocità è di là E il campo magnetico è di là Vedete che la forza sta entrando nella lavagna Perché la forza è perpendicolare Al piano individuato da questi due Quindi il piano è quello della lavagna La forza sta entrando Vedete? Vedete far così Quindi questo signore Ha una forza che entra Quindi la corrente Questo è il suo dirimpetaio Questo portatore di carica è qui Cosa fa? Lui pure sente una velocità Questa è la velocità Questa è la velocità Il campo magnetico Magari è simmetrico Perché l'ho disposto io Qual è la direzione della forza qua? Qua è la velocità Il campo magnetico è così E la forza è uscita Lo vedete? Quindi qua la forza di Lorentz Qui la forza di Lorentz entra Qui la forza di Lorentz esce Quindi cosa fanno i portatori di carica? C'è una corrente che gira Ora, così C'è una corrente che sta girando E' una corrente che nasce In questa visione In questa descrizione dell'esercizio Sto usando la forza di Lorentz Ho un portatore di carica E in movimento Dunque c'è una forza E questa forza quindi Mi fa muovere il portatore di carica In questo modo E o non è uguale alla direzione Che dice la legge dei Farah de Lorentz? E' meglio che lo sia, non vi pare? Sarebbe un guaio se avessimo due risposte diverse Perché sono due modi di descrivere Lo stesso fenomeno macroscopico C'è una corrente che viene indotta In questa sfida Una lo descrive con la legge di Farah de Lorentz L'altro lo scrive con la legge di Lorentz Questo modo di descrivere si chiama La corrente che gira La corrente indotta gira Perché c'è una forza elettromotrice Certo Quella si chiama La forza elettromotrice emozionale Di movimento Motional in inglese Non so se si dice E' funzionale in italiano Per una bruttissima parola Una EMF Motional 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 È una forza elettromotrice Devuta al moto Credo che si dica emozionale Ma non sono sicuro Ok? In questo approccio dell'esercizio Sto chiedendo al studente Come gira la corrente Usando la forza di Lorentz Ok? Ed è meglio che venga fuori la stessa risposta Se io chiedo al studente Ok, me l'hai fatta con la forza di Lorentz Adesso fanno la legge di Lorentz La legge di Lorentz cosa dice? Che la forza elettromotrice deve girare In modo da compensare la variazione del flusso Allora se il flusso del campo magnetico Avete linee State guardando di qua Quindi di nuovo Guardate questo esercizio L'abbiamo già fatto State guardando con tanti punti Tanti punti Che vi vengono in faccia Sono tanti punti che vi vengono in faccia E stanno aumentando Voi cosa fate come circuito? Cercate di reagire Contrastando l'aumento dei punti Quindi la corrente girerà così In modo che voi create un campo in quella direzione E quindi vedete che la risposta è la stessa Convincetevi che chiedervi Qual è la direzione della corrente della spira E' la stessa che voi usiate Questa legge o questa Verrà fuori lo stesso Questa è la più potente Perché? Perché ci sono problemi In cui l'emozionale non c'è Basta cambiare il sistema di riferimento Se io sono solidale con il magnete Questo è un sistema di riferimento Se io sono solidale con il magnete Vedo la spira avvicinarmi Quindi posso dire Ci sono portatori di carica in movimento E sentiranno la forza di Lorentz Ma se io sono solidale con la spira E vedo il magnete venire in incontro Il portatore di carica è fermo E quindi non si è per alcuna forza Vedete? Quindi il metodo mozionale Il metodo dove si analizza L'effetto della forza di Lorentz sulle cariche Funziona quando il portatore di carica è in movimento Quando il conduttore è in movimento Ma se il conduttore è fermo Questo non funziona E risalda sempre la legge di farla di Lorentz Ma io che tendo ad essere un po' un pigro Non mi piace usare due approcci Cerco uno che funziona sempre E questo funziona sempre Questa funziona solo se il conduttore è in movimento Però convincetevi che danno la stessa risposta Questo è fondamentale Infatti è anche il punto di partenza Che Einstein ha usato per scrivere o pensare La sua relatività Come farebbe a dare due risposte diverse? Se avere la corrente che gira così Non può in un sistema di riferimento andare così In un altro andare così Cioè tutti sono d'accordo che giri in un certo verso Non può semplicemente cambiando Essere solidale con il magnete O essere solidale con questo A avere una corrente che gira in un verso o in un altro Perché se giressi in direzioni diverse la corrente Potrei dedurre chi è in movimento Che è in movimento qua? Il magnete o l'aspira? Siete nello spazio Qua c'è la lavagna Siete nello spazio C'è un magnete e c'è una spira C'è un moto relativo tra i due Chi è veramente fermo? Einstein dice che non si può sapere Quindi dovete intuire Che se non desse la stessa risposta Se con l'approccio di Lorenz Avessi avuto che la corrente gira così E con l'approccio di Faraday Avessi avuto che la corrente gira così Avrei potuto decidere chi è fermo e chi è in movimento D'accordo? E' proprio da questo intuito qua Che Einstein è partito a parlare dell'attività Quindi L'esempio può essere questo Qua avete il magnete E qua avete la vostra spira E qua infilate un misuratore di tensione Un amperometro Che misura la corrente Con la differenza di potenziale Mettete un dispositivo che misura la direzione della corrente Quindi dovete capire che se questo si muoveva Questa è la ferma Questa è la lancetta Ecco la zero E questa è la scala No? Avete, non so, più Un certo numero di ampere Un certo numero di ampere Un certo numero di ampere Tenendo fermo questo Muovete questo E supponete che la freccia giri di là Poi Rifate l'esempio un minuto Ma questa volta Tenete questo fermo E spostate questo di qua Il moto relativo Quindi questo si avvicina all'aspira Tenete fermo questo Avvicinate all'aspira In che direzione andrà l'indicatore? Eh? Einstein e questo discorso qua Fa presente Guardate che va nella stessa direzione Può andare in direzione opposta Perchè se andasse in direzione opposta Potreste dedurre chi è in movimento E' un'applicazione pratica di questo E' questo discorso qui Un'applicazione pratica della forza elettromotrice Di tipo moto Perchè la parola emozionale Perchè sono tentato usare Lo confesso di non essere sicuro Che esista C'è qualcuno che mi può dire Se si dice emozionale? Qualcuno qua ha già fatto l'esame di fisica? Si dice? Si dice? Si si Perchè è una gran brutta parola Emozionale E questo è un esempio Di una parola che è stata presa dall'inglese Emotional Emozionale Un'applicazione dell'approccio emozionale Immaginate di avere un campo magnetico uniforme Eccola qua La disegno artisticamente come tanti punti che escono dalla lavagna Eccola qua Immaginate una sbarretta di metallo Eccola qua Ok? E' una sbarretta di metallo Pezzo di rame Non è un circuito E' una barra E muovete la barra Ha una certa velocità Immaginate che il campo magnetico abbia in un certo modo il zero Ok? Quello che succede E' che il portatore di carica che è qui Cosa fa? Lui spostandosi Perchè è trascinato dal moto della sbarretta Ha questa velocità Una velocità per di là E il campo magnetico esce dalla lavagna Quindi velocità Campo magnetico C'è una forza su questo signore Che è in questa direzione Quindi lui si sposterà fino ad accumularsi qua Ma accumulandosi qua Lascia libero C'è una carica negativa che appare dall'altra parte E continueranno questi portatori di carica A continuare ad accumularsi agli estremi Finchè non ce ne sono talmente tanti Che impediscono l'arrivo di altri Perchè è chiaro che il secondo che vuole Questo qua che vuole Dovete pensare alla carica positiva Se volete pensare alla carica positiva Che vuole andare qua Perchè è sospinta di là C'è la velocità, il campo magnetico E la forza Lui è spinta dalla forza di Lorentz Questa qui che ho disegnato Dovete immaginare che è la forza di Lorentz Che è in quella direzione È una carica negativa Se ci fosse una carica negativa qua dentro La carica negativa con la velocità di là E il campo magnetico di là La forza verso il basso se è positivo Ma se questa è negativa la forza è verso l'altro Quindi le cariche negative sono sospinte verso l'alto Le cariche positive verso il basso Ma a un certo momento voi avete la concentrazione Di cariche positive da un lato La concentrazione di cariche negative da un lato C'è un campo elettrico Che impedisce l'arrivo di ulteriori cariche positive E di ulteriori cariche negative Si arriva all'equilibrio Quando la forza di Lorentz Viene perfettamente controbilanciata Dalla forza di Coulomb in direzione opposta E quindi qual è la condizione di equilibrio? L'equilibrio è quando la forza di Lorentz La forza di Lorentz è esattamente Controbilanciata dalla forza di Coulomb E quindi cos'è che scrivete? Scrivete che la forza di Lorentz Questo è uguale a QVB0 E' uguale alla forza elettrica E la forza elettrica cos'è? E' la differenza di potenziale Che c'è agli estremi del bastone D lungo la distanza che c'è tra un lato e l'altro Quindi questo è un bastone lungo L E c'è una differenza di potenziale tra questi Chiaramente questo estremo Ha un potenziale più alto Perché il campo elettrico è in questa direzione Impedisce l'arrivo di nuove cariche positive No? D'accordo? E impedisce all'altro estremo di accumulare ulteriori cariche negative E si ha l'equilibrio quando la forza elettrica Viene perfettamente a bilanciare la forza magnetica E quindi vedete che c'è una relazione molto carina qua Questa è la relazione che ci da un sacco di... Ovviamente qua manca la Q Perché è la forza elettrica, no? Questo è il campo elettrico E il campo elettrico gisce su una carica Quindi vedete che la Q si elide E abbiamo una relazione molto carina Che è VB0 uguale la differenza di potenziali A estremi del bastone lungo B E questa formula ha un sacco di applicazioni pratiche Perché io prendo un pezzo di rame di lunghezza D Lo muovo io attraverso il campo magnetico Misuro la differenza di potenziale tra i due estremi E deduco il campo magnetico Posso misurare il campo magnetico Spostando un pezzo di rame E vedendo che differenza di potenziale Appare ai capi del pezzo di rame Oppure se io conosco V Conosco di ovviamente il pezzo di rame Con misuro Quindi questo lo misuro Questi li conosco Posso dedurre la velocità E questo viene usato negli strumenti Che misurano la velocità dell'aria Del vento Quindi questa è un'applicazione Della forza alternatrice emozionale Sospingerà le cariche I portatori Però non essendo un circuito Perché non è un circuito? Perché non è un percorso chiuso È solo una sbarretta di rame Se fosse un circuito chiuso Allora la carica positiva qua non si fermerebbe E circolerebbe Quindi solo se questo fosse un pezzo di rame Un circuito Avrei una corrente che gira Non girco la corrente perché non può Dove va? E il guaio è che accumulo cariche positive Accumulo cariche negative E quindi impediscono l'arrivo di altre cariche E si ferma a un equilibrio con una differenza di potenziale Ma con questo ci vediamo all'orale Allo scritto e all'orale Allora 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 Allora